Sì, una domanda invece più specifica sul deciso di presidere i partiti per questa campagna elettorale. Il centro-sinistra va alle primarie, in alcuni casi sembrano molto scontate, in alcuni casi come Follorica sembrano molto meno scontate, il centro-destra invece ha fatto questa scelta precisa, netta, di cercarsi un candidato e di proporlo. Ecco, questo è un modo di dire, dimostriamo di saper decidere e facciamo le cose, altri invece la vedono come un nome imposto agli elettori. Dunque, io in passato, ma ancora per certi versi sono tra coloro che credono che le primarie siano una buona pratica della democrazia. Il problema è che io ho in mente il modello delle primarie americane e non certamente il modello, l'attiva imitazione delle primarie nostrane fatte prima dai democratici sinistri e poi dal Partito Democratico. in quel modello, quello statunitense dico, le primarie sono un anticipo di competizione elettorale che rispecchia la volontà di partecipazione di un popolo e rappresenta uno strumento di partecipazione democratica. Importate malamente come sono state fatte in Italia e imposte come strumento di campagna elettorale anticipata più delle volte o di risoluzione di problemi interni altre volte, rappresentano quello che esattamente sono, cioè un sintomo della crisi di un partito. Questo mi sembra molto evidente. Le primarie il Partito Democratico le fa soprattutto perché il gruppo dirigente del Partito Democratico ha perso ogni credibilità nei confronti della base, perché non sono più in grado di interpretare la volontà dei loro scritti, di creare consenso sulle scelte che fanno e di creare le condizioni per una scelta delle candidature che sia la più idonea perché la più condivisa anzitutto. Questo nel popolo di libertà non accade. Per una ragione che è genetica, il popolo di libertà è un partito che nasce prima fra la gente, fra gli elettori e poi dopo tra i gruppi dirigenti, è esattamente il contrario di quello che è stato il Partito Democratico che è fusione di nomenclature innanzitutto, mentre il popolo di libertà è innanzitutto interpretazione di una volontà popolare. Il popolo di libertà ha una dirigenza a livello locale, regionale e nazionale che è in grado, in alcuni contesti, non sempre, perché non è che sempre le cose vanno così bene, però laddove è possibile che lo fa, è in grado di interpretare la volontà dei propri iscritti, dei propri simpatizzati, dei propri militanti e delle primarie non c'è stato bisogno e non ce l'è bisogno perché credo che sia stata fatta la scelta più condivisa e certamente più sostenuta dal consenso generale fra quelle possibili. Lei è partito molto ottimista, nel senso che ha parlato di spirito del 97, ha ricordato un anno di vittoria, quindi se quest'anno si respira lo spirito del 97, lei parte ottimista e dice sicuramente ci sono buone chance. Una domanda molto brutale, l'obiettivo è il ballottaggio la vittoria al primo turno. No, vinciamo al primo turno. Sicuro? Ma sì. Voi che ne pensate? Io penso che sarà una bella battaglia, sicuramente una gran bella battaglia, una battaglia in cui i due candidati si giocheranno ogni singolo voto, ma veramente ogni singolo voto e credo che il giorno che si accenderanno i tabelloni con i primi risultati saranno tutti con le dita incrociate, perché non credo sarà possibile fare una previsione prima in questa situazione. Io vivo una realtà che la sento proprio divisa, molto divisa a metà in questo momento, e con una bella fetta di voti da conquistare, per cui dipenderà molto da loro, da quanto sapranno conquistarsi questi voti, uno a uno. Grazie. 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 Grazie.